Ciclicamente sia a Venezia sia al Golfo di Cagliari si sono verificate nel tempo delle condizioni estreme, significative. Abbiamo registrato moltissimi eventi di inondazione all'interno per esempio della spiaggia del Poeto. In assenza di azioni preventive sono 5 le aree costiere in Sardegna che rischiano di finire sommerse in 80 anni. Parola dell'Enea all'Istituto Nazionale per l'Energia e l'Ambiente che in una ricerca sul mar Mediterraneo ha stimato attraverso simulazioni climatiche l'innalzamento del mare Nostrum di un metro entro il 2100. Le zone a rischio sarebbero Cagliari, Fertiglia, Valle d'Oria, Orosei o Ristano. Anche i porti vanno tenuti d'occhio, quello di Cagliari è ciclicamente a rischio d'allagamento assieme ad Olbia, Napoli, Genova, Venezia e La Spezia. Da qui a 80 anni abbiamo solo delle proiezioni, quindi abbiamo degli algoritmi, dei modelli basati su dati, però non abbiamo certezze perché sono dei modelli. Dovremmo misurare, da qui a 80 anni, da qui a 5 anni, da qui a 3 anni, misurare quello che sta realmente succedendo. Il mare Mediterraneo sta veramente salendo, questo dobbiamo fare e ancora non siamo in grado di farlo perché manca una rete di misure su questo tipo di dato. I mari si innalzano perché gli oceani, pur avendo una capacità termica superiore a quella dell'atmosfera e assorbendo grosse quantità di calore in eccesso, iniziano a reagire in maniera negativa al cambiamento climatico e non potendo espandersi si innalzano. Stiamo andando verso il caldo, questo lo sappiamo. Probabilmente stiamo accelerando questo processo di scaldamento con le azioni di immissione di gas serra e quindi questo è difficile negarlo. Il punto è che Italia è un paese ad alto rischio di dissesso idrogeologico e anche la Sardegna. Bisogna rispettare gli ambienti naturali, quindi serve una zonizzazione accurata, tutte quelle zone dinamiche lo si fa nei fiumi. Per quanto riguarda le coste, noi abbiamo due condizioni estreme in Sardegna, naturalità totale e urbanizzazione molto spinta. Quindi nelle grandi città o nelle zone come Cagliari molta urbanizzazione sulla linea di costa. Da altre parti naturalità assoluta e poi tutta una serie di intermedie di condizioni. Laddove abbiamo naturalità dobbiamo puntare a mantenerla, laddove ce n'è un po' di meno dobbiamo puntare a ripristinarla e nei luoghi fortemente urbanizzati bisogna cominciare a fare i conti con una dislocazione diversa delle infrastrutture.